Il vento del cambiamento è il respiro che ci porta più vicino ai nostri sogni, miglio dopo miglio. Creare è il mio metodo per dare respiro al cambiamento. Eliminare il superfluo significa dare respiro all'essenziale. So I'm very proud to be representing GEOX as well, particularly with a strong ethos on sustainability. They're not only a very dedicated racing team, but they actually leave those aspects of sustainability as a team. So I'm very proud to have you. Grazie a tutti.